siamo in diretta ciao a tutti buonasera a tutti come state grazie a tutti voi che siete qui e grazie a tutti coloro che ci seguono online sono mattia briga per chi non mi conoscesse sono veramente molto molto emozionato di essere qui tanto che rischio da un momento all'altro un tracollo emotivo quindi vi prego se faccio questo segnale correte qui sul palco perché vuol dire che ho bisogno di aiuto no comunque a parte a parte tutto io sono sono orgoglioso sono molto felice di essere qua e ed è anche strano perché si sono abituato ai palchi ma sono abituato a calcarli in un modo differente di solito io non parlo quando sono sul palco canto le mie canzoni cerco di veicolare quello che sento e quello che provo le mie emozioni tramite le canzoni quindi vogliate scusarmi se ogni tanto magari rischio di impappinarmi o di perdere il nesso logico io voglio dedicare questo intervento di oggi a mia madre con tutto il mio cuore che ieri ha avuto una piccola disavventura stradale ha passato la notte in pronto soccorso comunque sta bene ci sta sicuramente seguendo e la ringrazio perché mi ha aiutato lei a mettere in ordine questi pensieri questi input che avevo buttato su questi fogli che ho qui dove ho delle mappe concettuali perché devo aggrapparmi a qualcosa se no cominciamo a parlare di tutto e di niente e mi fa ridere questa cosa che per oggi in un certo senso la sostituisco perché lei è un insegnante che di liceo che insegna la letteratura ai ragazzi e oggi mi trovo qui senza alcun titolo se non quello di scrivere delle canzoni aver avuto la fortuna di far appassionare le persone a un genere musicale alla mia musica e mi sento molto fortunato quindi veramente grazie Scuola Holden per l'invito quando mi avete chiamato oltre alla mia felicità voi mi avete chiesto di parlare delle ossessioni no e allora chiaramente davanti a me mi è apparso subito un ventaglio di carte infinito tra le quali dovevo scegliere di quale ossessione parlare perché io ne ho tante però poi ho pensato che mi mangio le unghie penso che non gliene freghi niente a nessuno tantomeno che mi piace il calcio forse lo sanno tutti anche i muri allora ho detto vabbè penso possa essere interessante parlare un po della nostalgia perché perché è il principio cardine sul quale si fonda questo castello di carte che sono io e intorno al quale ruota la mia la mia personalità nostalgia è una parola che si forma da due termini greci nostos e algos il dolore del ritorno a casa ed è un sentimento che ha una marea di sfumature tanto che descriverlo con una sola parola tradotta in qualsiasi lingua è un'impresa se voi guardate bene l'amore no love amor liben khalil in danese oggi faccio un po il figo perché parlo da mese vogliono dire amore la rabbia e rabbia in tutte le lingue l'odio è l'odio in tutte le lingue la felicità è felicità in tutte le lingue la nostalgia no la nostalgia secondo me e accetto anche sicuramente pensieri discordanti ma secondo me ha una marea di sfumature che rende quasi intraducibile letteralmente questa parola i brasiliani la chiamano saudaggi ma potrebbe non essere per forza la mancanza del luogo di appartenenza potrebbe essere la nostalgia di un profumo la nostalgia di una condizione c'è la heimweh che è relativa ai soldati svizzeri prestati alla francia che avevano nostalgia del loro del loro paese penso che il termine più vicino all'etimologia di questa parola sia homesick no che poi è mondiale perché appartiene all'inglese no al mondo anglofono la lingua più parlata però c'è questa parola che la più bella di tutti che secondo me è interessante raccontare no sensucht sensucht è una parola tedesca che appartiene che nasce all'interno del romanticismo tedesco e e penso che sia difficile anche tradurre questa parola alcuni la traducono direttamente come nostalgia in maniera secondo me un po grossolana alcuni dicono che voglia dire struggimento e devo dire la verità a me piace struggimento però c'è una definizione che è molto più completa e più bella e che per certi versi è una poesia una poesia cantata di ruckert che dice tu sei la quiete la dolce pace lo ricostruggimento e ciò che lo placa e allora secondo me tutta questa definizione è il vero significato di nostalgia un sentimento un sentimento che si crea si distrugge e si ricostruisce e si destruttura continuamente a tale riguardo questa cosa è simpatica perché quando sono stato da mia madre ovviamente quella è la casa dove ho passato diversi anni della mia vita per mettere per dare un senso a tutti questi pensieri abbiamo trovato un foglio che è originale ed è questo e che ho scritto quando avevo otto anni e che non pretende assolutamente di essere qualcosa di geniale ne è qualcosa di fenomenale è solo un foglio conservato a casa di mia madre e come tutti voi avete delle cose a casa dei vostri genitori che appartengono alla vostra infanzia no solamente che io sono qui oggi a parlare di nostalgia e questa è una cosa estremamente nostalgica che mi rende un più facile spiegare anche a me stesso non solo a voi perché io spiegarlo già un termine terribile raccontarlo a voi è difficile ma è difficile anche raccontarlo a me perché sono così perché quando scrivo una canzone devo scrivere una canzone d'amore perché dopo che faccio un concerto importante piango e mi fa piacere leggervi un estratto questo questo scritto si intitola otto anni di sofferenza in realtà c'è scritto di sofferenza perché evidentemente avevo qualche piccolo problema di dislessia oppure il cervello mi frullava molto veloce già otto anni e quindi non badavo molta attenzione a quello che scrivevo comunque ho vissuto senza di te ho provato a credere come tu mi potrai deludere otto anni di sofferenza e le cose vanno male lo dovevo capire tu senza di me io senza di te otto anni di sofferenza le strade deserte in terra ma come posso fare a capire adesso senza che vi tedio ulteriormente con dei deliri esistenziali di un bambino di otto anni che sono ben evidenti e ci sono anche delle dei riferimenti sconnessi tipo babbo natale o i jeans e un numero di telefono tedesco di bocum si vede che mia madre era andata a divertirsi forse aveva 35 anni probabilmente aveva l'età mia comunque questo foglio rende l'idea di quello che è sempre stato il mio approccio stilistico all'arte alle canzoni allo scrivere per me scrivere una canzone che non sia d'amore non ha senso se guardo un film d'amore deve parlare di un amore platonico impossibile io devo piangere devo percepire la fatica che un essere umano ci mette per conquistare l'amore di un'altra persona e deve pure finire male perché sennò io poi che scrivo che cosa faccio di notte tu pensi che mi addormento senza versare una lacrima no non è possibile quindi per me deve essere così ed è così perlomeno da quando ho otto anni perché questo io l'ho scritto a otto anni e anche se non vuol dire niente perlomeno è un filo conduttore che lega il me uomo di 35 al me bambino di 8 prima che mi sposassi quando ho conosciuto mia moglie arianna che ci sta seguendo quindi ciao amore so dove stanno le telecamere la prima volta mi ricordo benissimo la prima volta che lei mi ha invitato eravamo appena fidanzati a cena a casa dei suoi genitori appena siamo entrati a casa mi ha fatto vedere la casa e poi si è lasciata per ultima la sua stanza la sua camera da letto tutta contenta poi qualcuno di voi la vede sui social arianna super emotiva super trasparente no tutta felice senza mascherarlo proprio vieni vieni che ti faccio vedere la mia stanza chiaramente potevo potevo avere un approccio non poetico a questo no potevo limitarmi solo a dire a bello è bello questo tuo peluscia di quando eri piccola no ovviamente no quindi ne è nata tutta una riflessione che poi ho buttato giù e sono fortunato di condividere oggi perché ce l'avevo qui e volevo dirla a qualcuno però a volte non sempre abbiamo intorno le persone che riescono a dare peso a quello che tu comunichi no magari delle emozioni profonde mi fa piacere esprimere questo concetto oggi bene quando sono entrato in quella stanza ho realizzato che quella era stata la sua stanza per tutta la vita fino ai suoi 25 anni età in cui lei poi si è trasferita da me per per andare a vivere insieme quello era il suo letto è sempre stato il suo letto lei si è sempre addormentata lì e si è sempre svegliata lì ha sempre condiviso la camera con la sua con la sua sorella ha sempre studiato su quella scrivania ha sempre sognato su quel cuscino e addormentandosi guardando il soffitto o a pancia in giù sempre nello stesso luogo e questa è una enorme differenza che c'è tra me e lei basti solo pensare che io e genitori separati e che non è un dramma per carità come milioni di persone di bambini però io per esempio non ho mai avuto sempre la stessa stanza nella mia vita io ne ho avute tanto per cominciare almeno due una a casa di mio padre una a casa mia madre e tanta gente potrebbe dire beh cavolo seppure più fortunato ne hai due ne hai una in più invece non è così perché quando tu hai due stanze alla fine nemmeno una è veramente la tua perché perché devi studiare filosofia allora apri lo zaino e ti accorge che il libro non ce l'hai perché te lo sei dimenticato nell'altra casa allora esci con gli amici ti vuoi mettere una felpa la cerchi ma non la trovi perché sta a lavare nell'altra casa e quindi è così è tutta una rincorsa verso un qualcosa che un ragazzino potrebbe non saper gestire e questo è senza considerare che che io non ho avuto solo quelle due stanze perché a 16 anni vivevo in danimarca in quel paese io ho avuto due case e ho avuto due stanze da letto e poi ho avuto una stanza da letto a madrid e poi ho avuto una stanza da letto a londra e poi mi sono trasferito a casa mia e adesso ho la mia stanza nella mia casa ma questa che cos'è questa irrequietezza è un giro e girovagare come dei pazzi questo è il concetto dell'instabilitas che ritorna sempre e comunque dominante nella mia vita già al tempo del monachesimo si parlava di stabilitas e instabilitas i benedettini parlavano di stabilitas mentre gli ordini mendicanti come i francescani e dominicani parlavano di instabilitas loci ac mentis del luogo e della mente io non mi sono mai legato a un luogo sì ho il mio locus a menos sicuramente roma è è un qualcosa di speciale per me ma io anche se non l'ho mai abbandonata veramente non non sono mai rimasto sempre lì l'ho presa come punto di riferimento ma sono andato in giro e mi sono mosso come una trottola impazzita per mascherare quel senso di vuoto di cui io ho enormemente paura l'horror vacui la paura dell'inadeguatezza il senso di inadeguatezza il senso di inutilità la paura dell'oblio ecco forse tutti questi movimenti che ho fatto nella mia vita sono stati fatti per mascherare e per mettere da parte questa enorme paura che ho tutto quello che che ho fatto a ragazzi scusate io sto andando a ruota libera poi comunque chiaramente immagino che magari qualcuno di voi ha delle domande da fare o si fa tutto alla fine perché sono aperto il filo quindi vi chiedo questa cortesia ve le mettete da parte e alla fine no vittoria ci sono anche le domande da casa che magari ti arrivano a anzi volevo dire alla gente da casa che se volete potete cominciare a mandare le vostre domande che verranno lette alla fine giusto ok perfetto quindi riprendo dicendo che tutto quello che ho fatto nella mia vita l'ho fatto per per creare essenzialmente un ricordo nel mio futuro ho sempre avuto il desiderio di fare qualcosa di grande non per mitomania bensì perché quanto più speciale e grande era la cosa che facevo tanto più speciale grande sarebbe stato il ricordo che avrei costruito di quella determinata cosa magari sognavo di da bambino di diventare un calciatore per fare il gol decisivo ai mondiali e poi un giorno da grande ricordarmi che ero stato io a fare quella cosa così speciale o sognavo di cantare di e di far innamorare tutta Italia di una mia canzone per costruire un ricordo enorme di questo quindi quando quando poi mi si viene a chiedere perché perché tu non sei mai contento di quello che fai ma qui ci sono delle qualche domanda che io per esempio non capisco tu non sei mai contento tu nelle foto non sorridi perché non sorridi mai nelle foto perché tu non ti godi il momento cioè per me è una follia godersi il momento io non so nemmeno di cosa stiamo parlando io non perché non ti godi il momento per me il qui e ora è una cosa che non esiste non c'è non c'è non c'è mai stata io io vivo costantemente proiettato nelle mie emozioni passate non sono in grado di vivermi il momento io adesso dovrei essere la persona più felice del mondo di essere qui o di magari nel momento in cui sto facendo un concerto o sai quando è iniziato il mio percorso nella musica no io volevo volevo fare cose belle volevo fare i concerti volevo andare a sanremo volevo cantare allo stadio olimpico tutti questi sogni io li ho realizzati perché ho fatto sanremo ho cantato all'olimpico ho fatto un sacco di cose belle ma in quel momento io ero felice mi stavo godendo il momento assolutamente no ma mai nella vita e perché perché la cosa bella era il percorso che mi ha portato ad arrivare lì nel momento in cui io realizzavo che avevo realizzato il mio sogno si stava sgretolando tutto e tutto aveva perso senso quindi io dovevo immediatamente ricostruirmi un altro sogno un altro obiettivo un'altra ambizione questo per me è il mio senso di nostalgia tra l'altro ho portato un libricino di uno dei miei autori preferiti Kierkegaard che qui proprio in diario del seduttore lui parla di quanto sia bello il percorso che ti porta a guadagnare la fiducia e l'amore di una donna e nel momento in cui la conquisti lui dice io già non ne posso più già vorrei scappare vorrei lasciarla vorrei vorrei cessare la relazione perché perché tutto perde perde significato cioè quando mi ha chiamato quando sono stato chiamato dalla scuola Holden io lì in quella chiamata avevo realizzato il mio sogno perché avevo ricevuto una chiamata alla quale tenevo particolarmente e tutto il percorso che mi ha portato qui è un percorso meraviglioso fatto di appunti fatto di appuntamenti da mia madre per dire questa cosa che dico è giusta ti piace ti fa schifo nel momento in cui io sto realizzando il sogno non ha più senso niente quindi devo sempre ricercare costantemente l'emozione di una nostalgia passata e rinnovarla non è un caso chiaramente che quelli come me e chi prova questo senso infernale di nostalgia dentro di sé stanno sempre male nel presente alcuni alcuni di noi ad esempio io io maschero il mio il mio malessere facendo facendo ridere gli altri con la hubris no con questa questa tracotanza con questa ostentazione della sicurezza per 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 mascherare appunto come ho detto prima delle paure sono atteggiamenti di autoprotezione io vivo costantemente proiettato nel passato e quando mi proietto al futuro comunque lo faccio con un occhio verso le mie emozioni del passato mai mai qui mai nel presente non so se voi avete mai sentito parlare di Bergson e della questione del tempo interno interiore del tempo esteriore pensa che io sono pure puntuale se tu mi dici ci vediamo alle 13 e 30 io alle 13 e 25 sto qua eppure io non vado al ritmo del tempo quello che tutti conosciamo che è una convenzione dell'essere umano per metterci d'accordo tutti per semplificarci la vita io la mia vita è scandita dal dal mio tempo interiore che è il tempo delle mie emozioni però sono puntuale perché perché ho talmente paura del tempo esterno ho talmente paura di non averlo sotto controllo che che alla fine sono puntuale perché mi impegno perché ho paura di questo ho paura di ritornare ad Amsterdam dopo che ci sono stato per la prima volta a 17 anni ma ci ritorno ci sono stato 5 volte secondo voi a 17 anni quanti soldi potevo avere per stare una settimana a Amsterdam? niente non c'avevo una lira è stato uno dei viaggi più belli della mia vita è stato il primo viaggio con la mia prima fidanzata mi ricordo che abbiamo affittato una casa e abbiamo fatto tutto quello che si fa ad Amsterdam quando si è ragazzini abbiamo visto il museo di Van Gogh senza ricordarci nulla di quello che avevamo visto e poi ci sono tornato ci sono tornato con più soldi ci sono tornato con gli amici ci sono stato meglio ma secondo voi è mai stato come la prima volta che ci sono andato veramente? mai tutte le emozioni subiscono delle evoluzioni però la prima volta che si prova un'emozione è un qualcosa che ti rimane dentro e sempre per tornare a Kierkegaard no? lui dice mi viene in mente la mia giovinezza quando ero pieno di nostalgia e adesso ho solo nostalgia della mia prima nostalgia che cos'è la giovinezza? è un sogno e che cos'è l'amore? è il contenuto del sogno io una definizione più bella nella mia vita non l'ho mai più trovata questo è un estratto di Out Out Ant & Ella che è un altro dei suoi romanzi meravigliosi dove a me personalmente mi ha illuminato perché io vado molto a immagini e mi piacciono molto le poesie perché mi evocano delle cose meravigliose come se un fulmine mi colpisse al petto e allora poi in questi libri che ho letto nella mia vita ho sempre avuto l'abitudine di sottolineare delle cose qualcuna ne ho anche citata in qualche canzone penso che per chi mi conosce il mio senso di nostalgia nell'arte penso che siano evidenti i riferimenti che ho nell'arte per me quando molte cose le cito alcune cose ce le ho anche tatuate ad esempio qui adesso non posso tirare sulla manica avrei voluto portare un quadro c'è una ristampa fichissima a casa ma l'inconia della partenza un quadro di De Chirico il pittore metafisico per eccellenza lui nasce in Grecia qui c'è la Grecia e sopra la Grecia ci sono delle cose indefinite dipinte disegnate ovviamente come dire la cosa bella dell'arte è che o ti arriva o non ti arriva io penso che l'arte in se possa spiegar detesto il regista che ti spiega il film detesto il cantante che ti spiega la canzone io ne detesto il pittore che ti spiega il quadro io ci voglio capire quello che mi arriva e poi parlarne con altre persone che magari hanno avuto un'idea diversa di quello però io in questo quadro ci vedo una soffitta con delle cose buttate lì appartenenti alla tua infanzia ci vedo pezzi di cornici ci vedo una chitarra ci vedo uno scudo ci vedo il percorso che ti fa tornare a casa tant'è che lui nato in Grecia viveva a piazza di Spagna andava sempre a Caffè Greco a Roma penso che sia un caso non lo so però in un certo senso delle cose ritornano questa ossessione di tornare a casa e la casa in senso lato la casa per i monaci era il convento per noi può essere veramente la casa di quando eravamo piccoli il nostro quartiere la nostra città se si vive in un altro paese la voce di Dolores O'Riordan dei The Cranberries no? conoscete? zombie zombie cioè quella è una voce nostalgica per eccellenza non si può mai chiedere a Dolores di fare un pezzo estivo io ogni volta che sento quelle canzoni io torno indietro torno indietro nella panda azzurra sgangherata di mia madre che non aveva una lira ma ci faceva comunque fare le cose perché perché ce le faceva fare trovava il modo di farcele fare e c'era questa panda azzurra tutta rotta gli rubavano le macchine si rompevano una tragedia per portarci a scuola per portarci in giro per portare me e mia sorella Ginevra a fare delle gite magari in compagnia di qualche amico e l'unica cosa che funzionava in questa macchina a parte il motore grazie al cielo era lo stereo con queste cassette che lei portava e io mettevo in continuazione col sottofondo di The Cranberries e sono delle immagini che io non tolgo dalla mia testa e che cerco e cerco di rievocare quando sento che la vita non mi sta comunicando tanto io quando vedo i miei colleghi che escono con due dischi l'anno dico ma come cazzo fa scusate ma cioè è una roba che io io ho bisogno di vivere per scrivere qualcosa io la vita me la devo andare a cercare e se quella vita che incontro non mi comunica quelle determinate sensazioni le vado a ripescare perché se no cosa scrivo io devo voglio scrivere delle canzoni d'amore voglio scrivere delle canzoni che parlano di me la prima volta che ho pubblicato un romanzo siccome ero stato molto pressato da qualche casa editrice ho detto vabbè lo scrivo però lo scrivo come voglio io avevo il terrore che mi dicessero allora Mattia Briga guarda vogliamo fare un romanzo un libro fotografico che è sta cagata cosa fotografica no però una cosa che parli di te allora io ho pensato una cosa che poi si è rivelata fichissima per me perché io poi quando vado a rileggere quelle cose dico cavolo che figata io ho chiamato uno dei miei più cari amici e gli ho detto André tu mi devi raccontare e devi far affiorare alla mia mente le cose più belle che abbiamo passato insieme i momenti più divertenti le cose più esilaranti dobbiamo parlarne ci dobbiamo vedere perché io voglio che me le ricordi perché scusa voi siete amiche no ok cioè quante cose ti ricordi tu che lei non si ricorda della vostra vita no cioè io senza di lui non avrei potuto scrivere questo e siccome ero stato parecchio frainteso perché poi avevo avuto un'esposizione televisiva enorme in quel periodo e per il mio carattere comunque avevo diviso il pubblico a metà c'era chi mi aveva capito e chi mi voleva bene c'era chi non mi aveva capito o semplicemente gli stavo sulle palle e quindi ho detto come posso fare per far capire veramente chi sono parlo del mio passato e me lo faccio raccontare da un amico quindi non odiare me il mio primo romanzo è un romanzo scritto a due mani anzi a quattro mani a due mani come si dice? vabbè da due persone in cui la cosa bella è che io vengo raccontato da un amico mio quindi vengo insultato da un amico mio vengo deriso da un amico mio vengo preso in giro e vengo esaltato da un amico mio sono ossessionato dai ricordi del mio passato e sono ossessionato dal futuro perché devo continuare a costruire qualcosa di cui un giorno io mi ricorderò e mi dovrò ricordare in una maniera che mi farà sentire bene che cosa ci faccio con tutta sta nostalgia o qualcuno dice ci scrivi le canzoni beh posso anche scrivere baciami che non è nostalgica metto il reggaeton il mio lavoro lo faccio lo stesso no? posso fare dei featuring che magari non sanno di niente perché tanto entro in studio la voce se non c'ho mal di go la posso cantare qualche stupidaggine la butto giù sostanzialmente niente che ci faccio? sto camminando all'indietro nella mia vita? no sono anacronistico non sto al passo coi tempi no faccio una delle cose che in questo momento storico è una delle cose più difficili da fare prendo coscienza di questo accetto me stesso e buonanotte anche perché come dice qualcuno che tra l'altro è una persona che volendo permette a tutti quanti noi di essere qui Alessandro Baricco no? non c'è niente da fare quando arriva arriva e quindi mi fa piacere anche posso leggere una cosa? Alessandro Baricco scrive la sera come tutte le sere venne la sera e non c'è niente da fare quella è una cosa che non guarda in faccia a nessuno succede e basta non importa che razza di giorno arriva a spegnere magari era stato un giorno eccezionale ma non cambia nulla arriva e lo spegne Amen sono venuti i brividi chiaramente quello che arriva a me è che lui stia parlando della nostalgia può parlare di altre mille cose però il senso che io do alla nostalgia è questo non c'è niente da fare quando arriva arriva e spegne tutto per me comunque è un lieve stato di depressione con il quale io sono totalmente in equilibrio perché non è un qualcosa che mi fa stare male che mi fa come posso dire non mi fa fare le cose no io sono in totale equilibrio con questo lieve stato di depressione chiamato nostalgia per concludere spero di non avervi veramente rotto le scatole avevo il piacere di leggere la mia poesia preferita che qui insomma ha portato in lingua originale la poesia di Franco Ara che ho anche un po' sfidando insomma i più grossi autori del mondo ho anche insolentemente citato in una delle mie canzoni che che mi piacciono di più ognuno di noi che scrive canzoni soprattutto i cantautori no quelli che se le scrivono da soli hanno delle canzoni del cuore e questa è una canzone che io ho dedicato a mio padre ciao papà e nel ritornello io scrivo che poi non l'ho scritto io adesso lo vedrete perché io ho scritto io vorrei bere una coca con te e ho citato il titolo di questa poesia Having a Coke with you di Franco Ara una poesia avverso libero e e ve la voglio leggere perché consideratelo concedetemi di farmi un regalo non l'ho mai fatto e lo voglio fare bere una coca con te è più divertente che andare a San Sebastián Irún Hyundai Biarritz Bayonne o andare di stomaco in mezzo alla traversiera dei grati a Barcellona un po' perché con questa camicia arancione sembri un San Sebastiano ma più credibile più felice un po' per l'amore che ti porto un po' per l'amore che porti tu allo yogurt un po' per l'arancione dei tulipani fluorescenti che circondano le betulle un po' per la discrezione con cui ci sorridiamo se c'è gente o di fronte alle statue quando tu ci sei stento a credere che ci siano cose tanto immobili tanto solenni tanto spiacevolmente definitive quanto le statue e proprio quando standoci davanti nella calda luce delle quattro in punto a New York andiamo alla deriva avanti e indietro dall'uno all'altro come un albero che respira dagli occhiali e tra i ritratti della mostra sembra che non ci sia nemmeno una faccia soltanto colori tanto che all'improvviso ti chiedi perché mai qualcuno li abbia dipinti io guardo te e preferirei continuare a guardare te piuttosto che tutti i ritratti del mondo a eccezione forse a volte del cavaliere polacco che comunque è la freak e che grazie al cielo non hai ancora visto così potremmo essere insieme la prima volta che lo vedrai e poi col fatto che sei talmente bello nei movimenti che possiamo quasi quasi fare a meno del futurismo e a casa non penso mai al nudo che scende una scala né alle prove o a questo o a quel disegno di Leonardo o Michelangelo che un tempo mi lasciava senza fiato e a che cosa gli sono serviti agli impressionisti tutti quegli esperimenti visto che non hanno mai trovato la persona giusta da mettere in posa vicino a un albero col sole che cala o se tanto mi dà tanto a Marino Marini che ha scelto bene il cavallo ma non il cavaliere direi che tutti quanti si sono lasciati scappare un'esperienza meravigliosa che però con me non andrà sprecata ed è per questo che te ne parlo ed è per questo che oggi vi ho parlato grazie infinitamente a tutti grazie grazie mille davvero non so nemmeno io come come ho fatto a portare a termine questa cosa grazie infinite se ci sono domande altrimenti le abbiamo da youtube ciao mattia sono andrea ciao esordisco dicendo che sul qui ed ora c'è lo stesso problema tuo quindi non è un problema no vabbè per gli scrittori la stessa passione esatto vai però che non te godi niente alla fine ricordi solo quello che che hai sentito e per me la nostalgia è mancanza io la interpreto in questo modo cioè quando non c'è più una determinata cosa persona qualsiasi entità che ricopre il suo ruolo nello spazio e anche io cerco sempre di ritornare nei luoghi dove c'era quell'emozione te c'hai Amsterdam io c'ho Londra io sono tornato infinite volte a Londra per ritrovare un'emozione per ritrovare un'emozione che ho vissuto tanti anni fa però quella persona non c'era più e per me quando la nostalgia diventa troppa che non è più benzina per la scrittura è sofferenza per me e ti volevo chiedere se c'è per te una sorta di medicina alla nostalgia quando questa diventa troppa per me è tipo ricercare come diceva Vonnegut tutto è già stato sempre sarà e lo è ancora quindi a me immaginare che una persona che è stata in quel posto in un determinato momento che c'è ancora un po' mi consola c'è qualcosa che a te consola quando la nostalgia diventa troppa io per rispondere alla tua difficilissima domanda che è una domanda che implica veramente una ricerca profonda dentro dentro se stessi noi tutti la facciamo ma può essere che io non ho fatto la stessa ricerca dentro di me che stai facendo tu a livello personale ti dico che a me console il semplice fatto di essere in movimento di sentirmi in movimento d'altronde Orazio diceva celum non animum mutant qui transmare curunt cioè coloro che vanno per mare non mutano il loro animo ma mutano il cielo ok in tutti i viaggi che io ho fatto non ho mai cambiato me stesso ma ho cambiato il modo di vedere le cose ed è a questo che mi serve girare non stare fermo ovviamente più giri e più poi a un certo punto della tua vita ti ritrovi a avere nostalgia di diverse cose no? non so se mi sto spiegando bene è normale che se tu stai fermo qui poi tu puoi avere nostalgia di che? magari delle persone che sono passate davanti a te in questo teatro quando la nostalgia diventa troppa aumenta i giri e vai più veloce mi verrebbe da dire io farei così bella domanda comunque ti abbraccio e in bocca al lupo per tutto e ce la fai sicuro buonasera buonasera saluto si vede che non gli è piaciuta la risposta ciao ciao Mattia io sono Manuel noi ci siamo incontrati diverse volte perché un po' come tanti di noi credo sin dai tempi di amici ti seguivo e sono cresciuto un po' con le tue canzoni e anche con i tuoi libri ho passato un po' tanto tempo nella mia vita a chiedermi perché fossi così unito a quella che è la nostalgia tant'è vero che proprio come te anche io sul mio corpo ho un tributo a questa parola a questo sentimento perché poi questa condizione esistenziale ci sarebbero tantissime cose da dire su questo aspetto ma in realtà la mia domanda che volevo farti è se se c'è soprattutto e se c'è qual è una differenza tra la nostalgia e la malinconia Allora qui andiamo un attimo sul tecnico il tecnico non ha nulla a che vedere con le emozioni secondo me puoi chiamarla come vuoi per me nostalgia è una parola che a livello fonetico già mi piace di più cioè è già una parola che funziona che come ho detto all'inizio del discorso è una parola che si crea da sola si distruttura si ricostruisce da sola non saprei dirti cosa c'è di differente una sillaba in più non lo so quando scrivo le canzoni sicuramente sono sinonimi sicuramente sicuramente c'è qualcosa ci sarà qualche sfumatura ma non a livello emotivo non 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 è una cosa che mi interessa perché 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 un giorno io posso venire da te e dirti io ho malinconia e a seconda di come mi gira ti dico ho nostalgia ho melancolia non lo so comunque è una cosa che che penso puoi scoprire da solo magari come diceva come ti chiami? Andrea quando è troppa lo puoi chiamare nostalgia quando è lieve malinconia ciao allora ti volevo chiedere se hai la sensazione Carolina Carolina hai la sensazione che la nostalgia abbia modificato in qualche modo i tuoi ricordi cioè mi spiego meglio a me sembra a volte di avere nostalgia di qualcosa di bello e mi sembra ancora più bello oppure doloroso mi appare più doloroso quando in realtà magari non è stato così però la nostalgia lo amplifica in qualche modo penso che quella sia una questione di idealizzazione mi ricordo quando sono stato lasciato dalla mia prima fidanzata io pensavo di avere nostalgia di lei in realtà no io avevo nostalgia della mia condizione mentale nella quale mi sentivo stando con lei quindi io avevo idealizzato un mio irrefrenabile desiderio di qualcosa di diverso nella sua persona ma in realtà lei non rappresentava quell'ambizione quindi assolutamente si corre il rischio di modificare i ricordi della tua vita e di dargli un peso diverso però questo è il nostro film cioè la vita è il nostro film nessuno può venire da me e dirmi ah no tu stai dicendo qualcosa di sbagliato cazzo è la mia vita posso dire quello che mi pare o pensare quello che mi pare perlomeno della mia vita quindi non facciamoci problemi di coerenza o di o di seguire perfettamente come posso dire lo storytelling del nostro passato cioè costruisciti quello che vuoi nella tua testa datti le risposte che vuoi alla tua vita e raccontala come vuoi prego grazie ciao mattia ciao ciao nico ciao nico io ti seguo da malinconia della partenza tanto per cambiare diciamo da undici anni fa 2013 mi ricordo ancora bene io alla stazione con quel quadro attaccato per le spalle esatto comunque la domanda che ti voglio fare seguendoti da sempre quant'altro dato che prima hai parlato che tu ti ritrovi cioè nel senso che in questo tuo senso di nostalgia ritrovi l'equilibrio volevo capire nel tuo rapporto con tua moglie che dai social sia molto importante per te quanto lei sia importante in questo equilibrio tuo mentale nel vivere la tua persona fino in fondo ecco non so se mi sono spiegato beh assolutamente sei stato chiarissimo no Arianna l'ha distrutto il mio equilibrio è chiaro avevo un equilibrio diverso prima di conoscerla e lei l'ha distrutto come tutte le cose belle arrivano e spazzano via la cosa più bella è che io mi sono stancato mi ero stancato di mettere le cose sotto al tappeto e lei è arrivata ha levato questo tappeto sono emerse tutte queste cose le abbiamo affrontate insieme Arianna è la donna della mia vita perché perché ha un piano d'ascolto notevole nel senso che lei è una grandissima ascoltatrice nel profondo e io sto imparando ad ascoltare perché io ascolto poco non è che ascolto poco e parlo tanto io proprio non parlo e ascolto poco e lei invece ha un piano d'ascolto molto profondo e io la ringrazierò sempre di questo e mi sta insegnando tantissime cose quindi nel rapporto con lei come in ogni rapporto che si costruisce si costruisce un equilibrio nuovo che non riguarda solo te stesso ma in questo caso è un equilibrio della coppia è una persona molto emotiva e che tutta questa emotività ha imparato da sola a gestirla si è fornita degli strumenti da sola quindi io penso che sia geniale nella gestione dell'emotività e io non sono così io magari per certi versi sono più forte ma penso che l'amore sia questo adesso siamo grandi ormai io avevo perso fiducia avevo perso voglia di di relazioni scontate fittizie superficiali queste relazioni perfette che si vedono in televisione sui social mi fanno vomitare e ho trovato qualcosa di estremamente vero che nella vita mi aiuta tutti i giorni grazie per la domanda grazie a te non vedo c'è qualcuno ah ok allora magari vogliamo leggere le domande da casa sono tantissime quindi te ne scelgo un paio allora Giuse Aquino leggo i nomi Giuse Aquino dice ciao Mattia faccio musica anche io come te ho sempre avuto un occhio diverso verso le cose quanto questo approccio poetico ha cambiato la tua vita quanto ha influito nel tuo guardare il mondo beh ha influito molto ha cambiato molto la mia vita perché semplicemente perché io vivo delle mie canzoni quindi Giuse non è già questo non è poco e poi perché in base alle nostre emozioni noi possiamo decidere in un certo senso come viverci la giornata da se cavalcarla o se farci schiacciare io penso che a volte subire un po' delle nostre debolezze sia sia un valore aggiunto per noi perché riguarda proprio anche diciamo la questione dell'accettazione di se stessi che è un argomento molto dibattuto soprattutto di questi tempi è un argomento anche molto delicato io penso che tutte le volte che sono rimasto schiacciato dalla mia emotività e sono rimasto sul divano piuttosto che essere uscito con i miei amici io sono felice di quelle giornate sono felice di quelle serate perché ho capito qualcosa di me stesso qualcosa in più di me stesso me lo sono andato a guadagnare penso che noi dentro di noi siamo un po' come giocare a risico noi dobbiamo conquistarci un piccolo pezzetto di territorio dentro di noi ogni giorno adesso una difficile forse vediamo vera esposito chiede come si fa a superare la paura del tempo come ci convivi come si chiama la ragazza vera bea vera 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 e ripeto non è che ho la soluzione a porta che ti do la password capito io oggi cercando di essere meno ego riferito possibile cercando di fare un discorso un po' più generale comunque ho sempre solo parlato di cose mie e del mio modo di affrontare determinate questioni che non è una soluzione universale quindi io ho capito che la mia vita deve essere scandita dal mio ritmo interiore dal mio tempo interiore che è deciso dalle mie emozioni dal mio stato emotivo da come sto da quello che sento tu hai paura dello scorrere del tempo cioè bisognerebbe anche un po' specificare andare un po' più dentro alla domanda cioè hai paura di cosa di invecchiare hai paura io prima ho detto io ho paura del senso di inutilità per me per esteso è la morte cioè io dovessi dovessi svegliarmi la mattina e ritenermi inutile per me sarebbe equivarrebbe alla morte della persona interiore fisica mettetela come volete ma sempre morte se dopo hai voglia di specificare un po' di più magari riesco ad argomentare in maniera un po' più specifica la risposta grazie grazie a te vuoi rispondere a un'ultima domanda? altre due come volete allora sempre domande un po' composte Marilena metafisiche abbastanza credo che questa sensibilità credo allora lei dice credo credo che questa sensibilità diversa che genera la nostalgia ci renda più sensibili al dolore ma anche alla felicità come si supera il fatto di dover conviverci e forse non essere capiti dagli altri? ragazzi voi mi chiedete come si supera come si supera non si deve superare niente è questo il punto cioè non dovete approcciare a questa roba credendo di doverla superare perché per voi è un ostacolo prima Andrea ha detto io ho sto problema ma perché è un problema? non è un problema cioè non non c'è niente da superare bisogna bisogna cavalcarla la nostra emotività cioè è il nostro motore non credo che ci sia nulla da superare basta se no mi arrabbio e allora chiudiamo basta domande dico basta non rispondo più a quella domanda però c'è Donatella Bianchi che ti voleva dire una cosa e penso sempre come si scavalca e dice morte non è inutile si serve all'ecosistema c'hai ragione non ci avevo pensato grazie dell'assist speriamo che diventi ecosistema più tardi possibile allora chiudiamo con la domanda di una scrittrice visto che siamo in una scuola giusta per scrittori e scrittrici ciao Mattia sono Camilla e lo sai da quanto ti seguo è Camilla Mercadante ah ok ciao Camilla io sono una scrittrice e anche io scrivo di nostalgia io ho nostalgia di cose mai vissute è veramente possibile? può essere chiamata nostalgia? certo certo Camilla assolutamente io penso che tu debba essere orgogliosa di te stessa perché tu hai vissuto tantissime cose meravigliose e tutto quello che hai te lo tieni dentro di te perché io io lo so e continua sempre a scrivere e continua a tirare fuori perché anche se fino adesso non le hai vissute non si sa mai che qualcuna di esse un giorno le potrai vivere anche tu quindi io conoscendo Camilla mi viene da dirle questo è una delle mie più grandi fan si può dire è molto legata alla mia musica io le voglio molto bene saluto lei e tutta la sua famiglia grazie è stata una bellissima chiacchierata è la prima volta che mi trovavo di fronte insomma a una sfida di questo tipo e spero veramente che sia stato piacevole poi qualsiasi commento negativo insulto me lo fate su Instagram in privato grazie grazie